arabella di emilio de marchi parte prima capitolo 1 il testamento ratta milano la grande città del fracasso dopo aver mandato a casa l'ultimo ubriaco si sprofondò nel silenzio grave delle piccole ore di notte a san lorenzo suonarono due tocchi languidi rotti dalla neve che cadeva a fiocchi larghi il berretta buttato l'ultimo pezzo di legno nel caminetto fregandosi in fretta e ginocchi brontolò in fondo alla gola basta finirà anche questa nella stanza vicina dove malamente ardeva una candeluccia benedetta stava nel suo letto disteso la povera signora ratta morta vestita di una logora gonnella di cotone color terra secca con in capo la più sgangherata delle sue cuffie famose e sulle gambe sottili un paio di calze di filugello bigio il portinaio berretta che aveva aiutato i becchini a collocare sul letto la povera cristiana che le aveva legate non senza fatica le mani con la corona del rosario non poteva ora togliersi dagli occhi il fantasma della morta benedetta quantunque l'uscio della stanza fosse chiuso con due bei giri di chiavetta e lui imbacuccato nella pistagna di un suo antico tabarro fin oltre gli orecchi voltasse le spalle all'uscio e cacciasse la testa tutta quanta nel vano del caminetto per non irrigidire nella paura che la più gran cosa fatta di niente il portinaio che non aveva ereditata da natura un'anima di drago due o tre volte si sforzò di ragionare su cose inconcludenti di appassionarsi di accalorarsi nei pensieri di ripetere gli avvenimenti della faticosa giornata suscitando in se stesso dei rancori e delle smanie per avere un motivo di brontolare e di rompere quel tremendo silenzio di morte destando degli stimoli d'egoismo con la prospettiva di una grossa mancia o di un lascito o di qualche regalo la vecchia carolina ratta nei 12 o 13 anni da che era venuta ad abitare in carrobbio prima stava in borgo di san gottardo si era sempre servita di un berretta come una serba ad opera parlando con poco rispetto una scopa che ha sotto la mano i portinai sono la scopa degli inquilini berretta mi fate un piacere gli pareva di sentirla negli orecchi la voce tremula e fessa della vecchia tua genaria mi comprate il tabacco berretta badate che sia albania e non dava mai un soldo la varaccia salvo il rispetto ai morti berretta la mia gatta l'avete vista anche questa gli era toccato qualche volta di girare in mezzo alla casa dal solaio alla cantina in cerca della gatta per cui se la sora carolina gli avesse lasciato nel testamento 100 200 300 li rette una volta per sempre proprio niente di male don giosuè pianelli il confessore della povera cristiana gli aveva fatto capire che il suo nome era scritto su un foglio di carta 100 li rette le aveva guadagnate soltanto a correre quel dì quando la giuditta venne a dire che la sora carolina pareva morta davvero nel suo seggiolone con la solita calza in mano in cui aveva litigato fino all'ultimo la sua grande vitalità bisogno subito correre ad avvertire il sortognino poi bisogno correre il municipio per le formalità e aspettare due ore che i signori impiegati si degnassero di scrivere poi di nuovo bisogno correre la società anonima a ordinare la carrozza da morto poi correre gambe in spalla a san lorenzo a combinare coi preti e tira e tira tra i preti che volevano la polpetta grossa e il sortognino che odia i preti fu quasi una commedia in sacristia poi correre ancora a recapitare una cinquantina di lettere con l'orlo nero ai quattro punti di milano e quando finalmente pareva che tutto fosse finito né berretta venne fuori a dire il sortognino fresco come un sorbetto bisognerà che tu rimanga stanotte a far la guardia la morta sul tardi verrò anch'io ma intanto vada a non lasciar passare nessuno se vengono i parenti con un pretesto con l'altro tu di chi è l'ordine di non lasciar passare nessuno nessuno né ho capito subito che cosa voleva dire con quel dito in aria ci vuole poco a capire che signor tognino ha paura dei parenti la vecchia lascia un carro di denari dei fondi è un paio di case in milano e conviene sempre mettersi a tavola per primi eredi legittimi non ne ha ma c'è una nidiata di parenti pitocchi e i corvi pastano dove c'è odor di morto staremo a vedere anche questo che sugo però di obbligare un povero portinaio stanco morto a far la sentinella a un altro morto il berretta si sforzò di ridere sulla sua facezia ma il piccolo nitrito che uscì di sotto al bavero di vecchio pelo risonando nella canna del camino gli parve una voce che trasalì la stanchezza la rottura degli occhi lo tiravano a dormire la paura lo tirava invece a immaginazioni stupide senza senso che lo riducevano freddo e stecchito sulla sedia di paglia come tra due pettini di ferro spasimava invocava l'ora che codesto sort ognino benedetto si lasciasse vedere erano già le due nevicava sempre che sugo ripigliò sbarando le pupille asciutte sulle braci che gli ammiccavano dalla cenere i morti non scappano mica che se per una supposizione la sora carolina avesse bisogno di bere io non sarei mai quel brav'uomo capace di portarle un bicchiere d'acqua uno può avere il coraggio di cento leoni per un'ipotesi e non sentirsi quello di litigare coi morti non è paura è una sollecitudine così mi contava un maresciallo dei carabinieri a cavallo il quale col quale uno scricchiolio secco di un vecchio mobile spezzò a questo punto le riflessioni del portinaio che non trasalì perché ormai l'uomo e la sedia facevano un pezzo solo ma la vita precipitò sul cuore come se si distaccasse a pezzi e a croste torcere il collo non poteva più per una dolente rigidezza dell'osso che si attacca alla spina dorsale con la quale l'uomo sentivasi attaccato alla sedia e con la sedia con le gambe attaccato alla pietra del caminetto era un silenzio di tomba parevano morti tutti a milano il freddo scendeva dalla canna del camino e infilava l'uomo per i piedi e per la bocca dei calzoni la candela di seggo con lo cignolo che faceva il fungo nella fiamma pareva anch'essa annoiata di far chiaro ai mobili del salotto che appoggiati con le spalle alle pareti mandavano di tempo in tempo dei gemiti di stanchezza dalle giunture è ridicola la tua età aver paura dei morti seguitò il berretta con un burbero rimorso di coscienza è ridicolo ma è pur vero che questo morire è una figura birbona oggi sei sano vispo come un pesciolino ti piace il vino bianco la buona compagnia e domani sei un brutto macaco non buono nemmeno per essere imbalsamato nemmeno buono a far legna sei ma un essere che puzza sei e ti casca il naso ti cascano gli orecchi dio spaventato la predica mentale fu interrotta un'altra volta da un passo che veniva su per le scale urtando coi piedi nei gradini il passo si avvicinò all'uscio e andò oltre non era il sortognino di sopra abitava il cuoco di casa mainona che tornava spesso a casa con lo spirito santo in corpo vi abitava anche una cantante che da un pezzo non cantava più seppure aveva mai cantato qualche cosa la bella incipriata sora olimpia in certe ore vi andava un vecchio colonnello una volta ci andava anche il sor lorenzo quel caro figliuolo del sortognino detto il bomba e così mentre da una parte il padre avaro sparagnava il centesimo tirando la pelle in capo agli operai il bomba gettava i marenghi in questo pozzo a padre avaro figliuolo prodico a padre furbo figliuolo bislacco è una legge così è una tragedia così la vita di sotto una vecchia di 80 anni che fa la sua ultima smorfia sull'assa con le gambe in due calze lunghe di filugello e di sopra la bella olimpia che canta e che non canta un gran colpo di vento scosse le imposte della finestra la neve picchiò nei vetri il turbine urlò in gola al caminetto la fiamma della candela posta sul caminetto cedendo al filo d'aria allungò l'anima sullo stoppino il berretta stava ancora brontolando soffia scoppia quando un altro urto di vento spalancò furiosamente le gelosie nella camera della morta i becchini non avevano che avvicinate le gelosie per lasciar corso all'aria e ora la neve portata dentro da quel demonio di vento fioccava quasi addosso al cadavere sacco rotto bestemmiò il portinaio anche questa ma se la sola carolina ha freddo non so proprio cosa dire vada lei a chiudere per me non mi muovo fossi bestia già non piglierà mica la tosse e preso al fascino di questa nuova e strana fantasia cominciò a dispetto della sua volontà a immaginare che la morta scendesse veramente dal suo letto di legno si accostasse alla finestra a chiudere poi tornasse indietro a prendere la candela in terra aprisse l'uscio del salotto cacciasse il capo nello spiraglio agitando l'enorme cuffia sfarfallata con la bocca aperta e indurita a un oivò era un fascino maledetto seducente irresistibile e se lo creava lui quel tormento birbone per una specie di voluttà poetica ne soffriva orribilmente ma non poteva sottrarsene sei qui il beretta mandò fuori un ululo d'uomo strozzato era il signor tognino pazienza mi ha fatta una e non ebbe la forza nemmeno di nominarla il padrone era entrato così repentinamente nel mezzo delle sue idee che queste trabalzarono come bicchierini sopra un vassoio a cui un matto appioppi un pugno di sotto a tutta prima il portinaio ostentò a riconoscere il suo padrone di casa invece del consueto partò col bavero di castoro e del solito cappello duro portava indosso in questa delicata escursione notturna un mantello bigio a pieghe fitte e pesanti e in testa aveva un cappello molle di campagna attese larghe mantello e cappello erano pieni di neve finalmente ripete il portinaio levandosi col dolore d'uno che si schiodi da un'assa credevo che non venisse più stasera fa del fuoco fa del fuoco brontò lo stizzito il padrone vado fuori a pigliare qualche fascinetta il beretta accese l'altra candela che stava sul camino e uscì mentre il signor tognino scrollata la neve dalle spalle e sbattuto il cappello contro la schiena della sedia buttava la roba sul tavolo e andava a sedersi davanti al caminetto per riattizzare un po di fiamma era un uomo sui 63 anni con una testa piccola quadra intelligente i capelli non bianchi del tutto il viso secco e colorito di una magrezza solida e risoluta che tradiva da lineamenti sciupati il giovane galante da altri tempi gli occhi piccini di un grigio freddo e duro guardavano sempre di vitto come quelli di un cocchiere che ha nelle mani dei cavalli cattivi su per una strada cattiva due modesti baffi quasi bianchi di un pelo duro e regolato coprivano una bocca sottile senza labbra vestiva con la trascurata proprietà di un uomo d'affari che può spendere e vestirsi bene ma non ha tempo di spazzolarsi e di star sull'etichetta tognino era primo cugino della defunta carolina e da qualche tempo suo amministratore suo factotum e suo braccio destro nei mille affari di una grossa azienda domestica la ratta vedova di un capomastro arricchitosi ai tempi dell'austria con gli appalti militari possedeva una bella sostanza valutata sulle 400.000 lire parte in case parte in titoli bancari parte in fondi a san donato presso chiaravalle da vecchia carolina nei 40 anni di vedovanza aveva fatto dei risparmi senza troppa fatica largheggiando in elemosine sostenendo la causa del sommo pontefice incoraggiando dei giovani sacerdoti e favorendo con la sua pietà tutte quelle istituzioni che mirano specialmente a far guerra ai framassoni negli ultimi anni aveva finito col cadere in mano ai preti ma furba alla sua parte cresciuta com'era in mezzo agli affari quando capì che i preti e il famoso avvocato baruffa tutta roba dei preti anche lui miravano a tirare troppo l'acqua al loro mulino un bel dì mandò a chiamare il cugino e gli disse guarda un po' Tognino io sono vecchia ma non voglio morire minchiona non ti pare che l'avvocato abusi della mia fiducia Tognino non stentò a trovare capi d'accusa si fece autorizzare e a poco per volta torse di mano al baruffa tutta l'amministrazione non solo ma gli fece capire che sarebbe stato utile alla sua fama e alla sua dignità di non opporsi alla volontà dei parenti lo mise insomma delicatamente alla porta poi suscitando le speranze dei maccagno e dei ratta dimostrando alla vecchia cugina che frati e preti minacciavano di mangiarla la viva ridestando in lei degli scrupoli per riguardo ai parenti più bisognosi che era in giustizia abbandonare riuscì ad avere in mano una procura legale che l'abile affarista adoperò come una solida spada fece ai preti a don giusue a don felice un'aria poco respirabile mandò via una certa santina una bigotta messa in casa a far la spia e prese al servizio una certa giuditta di piena sua fiducia aprì la porta ai parenti più miserabili che egli presentò alla decrepita cugina con parole affettuose ottenendo da lei oggi un sussidio per una povera donna partoriente domani una limosina per un infermo o dei prestiti o dei riscatti di pegno guadagnando la simpatia e la popolarità di tutti ratta più rosicchiati dalla miseria quando il figlio di un giacomino ratta celebrò la prima messa nell'oratorio degli angeli tognino vuole assistere come padrino a nome della vecchia benefattrice quantunque da 50 anni non vedesse più un cristo in croce e seppe tanto fare che passò per un mezzo santo tre volte la settimana menava in casa aquilino ratta uno dei veterani del 48 e ora vice ricevitore in un banco del regio lotto uomo pieno di rispetto e lasciava che il buon parente divertisse la vecchia attuagenaria con le storie dell'assedio di venezia e delle varie combinazioni con cui si può vincere un terno alla sera aquilino e la giuditta lo aiutavano a fare quartetto a tarocco un gioco vecchio e sempre nuovo in cui la ratta quantunque le carte le svolazzassero di mano da tutte le parti era una birbona matricolata e mentre si giocava tognino che era stato un uomo di mondo contava o ricordava molte storie del suo buon tempo quando era di moda portare i calzoni bianchi e il panciotto di piquet quando c'erano i bei veglioni alla scala e il risottino alla milanese dopo il veglione al famoso caffè della cecchina attingendo agli aneddoti dei cento anni dei rovani il bravo cugino sapeva con brio suscitare nei morti sensi della vecchia bigotta l'eco di reminiscenze che risalivano ai baccanali della cisalpina e della famigerata compagnia della teppa l'aneddoto lesto raccontato con spirito senza mai urtare alla religione cattolica il sommo pontefice strappava alle volte dal petto della paralitica un cacchino asmatico e strascicato rotto da colpetti di tosse che davano il rimbombo di un cembalino scordato e lasciavano nelle profonde rughe della sua faccia cartocciata e morta una sgocciolatura di lacrime contente era in questi istanti di serenità specie dopo certi pranzetti in cui la ratta aveva fatto onore al cosiddetto latte dei vecchi che tognino le dava a firmare delle note dei conterelli delle quitanze e così andarono avanti benissimo le cose quasi più di tre anni solamente negli ultimi tempi l'uomo aveva trascurato un po con la vecchia cugina gli affari grazie al matrimonio del figliuolo e a cento altre faccende che assorbirono le sue giornate poi si dette il caso che verso la fine di dicembre dovette recarsi come giurato a lodi in un interminabile processo un gusto proprio in quei giorni la vecchia ratta ebbe il primo urto della morte chiamato in fretta il canonico don giosue pianelli suo confessore ricevette i santi sacramenti sul punto di battere alla gran porta dell'eternità tocca e spaventata dalle parole del canonico le parve di aver diffidato troppo dei vecchi amici di aver creduto troppo alle parole di tognino di aver tradito le pie istituzioni di beneficenza lì per lì sul tamburo della morte don giosue suggerì un codicillo che in nome della santissima trinità distruggeva quelle qualsiasi disposizioni che avesse potuto dettare o sottoscrivere negli ultimi tre anni e richiamava in vigore un testamento del 1878 già consegnato all'avvocato baruffa don giosue scrisse la rettifica sopra un foglio di carta comune e corse in cerca di un notaio ma nel frattempo arrivò da lodi tutto trafelato il cugino a cui la giuditta aveva mandato tre telegrammi credeva di trovare la cugina agonizzante e invece vide che stava meglio sicuro la consolazione morale di ricevere i sacramenti e di compiere un atto di riparazione aveva fatto tanto bene alla malata che il giorno del santo natale poteva ancora assaggiare la sua fetta di panettone nel bimbianco la giuditta mise a parte il padrone della manovra dei preti ma non seppe dire se la vecchia avesse o non avesse firmata la carta la vigilia dell'epifania dopo un'agonia in cui la morte ebbe a sudare tre camice la buona cristiana in compagnia dei tre re magi andò a trovare il suo ratta in paradiso seppur ci vanno in paradiso gli appaltatori il beretta tornò con un fascetto di legna si inginocchiò davanti al caminetto e cominciò a soffiare nel fuoco gonfiando le ganasce presto la fiamma si risvegliò riempì il camino e ravvivò la stanza c'è stato nessuno nessuno che cosa aveva aquilino che aquilino il vice ricevitore dell'otto l'ho visto sulla porta verso le cinque voleva vedere la morta e tu asino l'hai fatto passare ma che passare ho detto che non avevo le chiavi però c'è stato don josue quest'oggi non l'ho visto il signor tognino carezzando con l'unghia del pollice l'orlo dei baffi era un suo movimento naturale nei momenti di riflessione lasciò cadere lo sguardo sul portinaio che gli stava davanti inginocchiato nella luce viva della fiamma era un occhio abituato a pesare gli uomini che non sbagliava quasi mai come non sbaglia l'occhio di un vecchio mediatore nel calcolare il peso di un fascio di legna e l'avvocato baruffa non è venuto mai non c'è stato nemmeno un tale dalle gambe lunghe un giovinotto smorto senza barba con un occhio bianco più grosso dell'altro gamba lunga occhio bianco ripete lentamente berretta crollando il capo pare anche lui un mezzo prete o un mezzo avvocato no non l'ho visto un certo mornigani lo chiamano precisamente il mezzo avvocato non lo conosco aquilino cosa ti ha detto mi ha domandato l'ora del funerale gli ho detto domani alle nove e mezza e la santina che è venuta a fare che uomo pensò in fretta prima di rispondere il portinaio che diavolo d'uomo poi soggiunse a voce alta la santina voleva ritirare alcune sue robe dice che la padrona le aveva lasciato un anello con un diamante e tu bestia l'hai lasciata passare ha fatto il diavolo sulle scale ma io sono stato agli ordini niente passare il padrone tornò a fissare gli occhi acuti e fini sulla nuca del berretta e sul rovescio delle sue larghe orecchie trasparenti alla luce del fuoco vecchio astrologo di uomini credeva di saper scoprire dai movimenti della collottola gli sforzi di una coscienza tenne dietro un mezzo minuto di silenzio durante il quale i due uomini settero ad ascoltare il mugito e il crepitio della vampa che riempì la bocca del caminetto quindi il padrone uscì a dire chi va adesso da olimpia gente ne passa sempre cantanti impresari gente di teatro il padrone fissò gli occhi nel fuoco e lentamente come se arrischiasse una parola domandò è vero che ci torna ancora qualche volta il mio lorenzo io non l'ho visto più dopo che ha fatto giudizio guarda che se gli tieni mano sortognino che cosa dice interruppe con fiera dignità il portinaio facendo un mezzo giro sui ginocchi bene bene uomo avvisato adesso metti un altro pezzo di legna sul fuoco e apri bene gli orecchi che un'altra cosa da dirti il berretta obbedì e pensò intanto che cosa avrà ancora questo demonio d'uomo il padrone dopo essersi un poco fregate le gambe picchiò con la mano due colpetti brevi sulla spalla del portinaio e ripresi a dire dalla cantina della mia povera cugina sono scomparse dal settembre a questa parte circa trenta bottiglie di vecchio barolo e mancano tre o quattro fasce di legna forte io le provo in mano che questa roba furubata e che ladro è in questa casa sentiamo un po che cosa ne sai tu il mio galantuomo io io non so niente balbettò il berretta alzandosi appoggiando una mano alla pietra del cammino grattando con l'altra i pochi capelli ruvidi e aggiunse mentalmente questa riflessione stavolta è la giuditta che ha parlato allora ripigliò l'altro soffiando sulle parole una specie di sorriso ironico allora se tu non sai nulla io sono più fortunato di te perché so dove bottiglie e legna sono andate a finire e siccome di ladri in casa mia non ne voglio così domani farò la mia brava deposizione alla questura o caro signor tognino non mi rovini per carità proruppe il berretta congiungendo le mani in atto di supplica ah tu non sai nulla per i miei poveri morti per l'anima di quella povera donna dirò tutto pagherò tutto ma non mi faccia per amor di dio questa brutta figura servo da trent'anni non ho mai toccato l'acqua piovana posso quasi giurare non hai mai rubato un pilastro tu ma il vino ti piace se è buono meglio se mi lascia dire confesserò tutto sono un uomo onesto quando non hai sete insistette il padrone con la crudeltà di chi piglia a tormentare con una lesina un topo preso vivo nella trappola i casigliani possono far fede che non ho mai toccato un soldo a nessuno un soldo no ma trenta bottiglie di vin vecchio a dire la bottiglia fanno quanti soldi e la legna è venuta da sé a farsi bruciare allora dica che vuol la mia morte addio esclamò il berretta asciugandosi la fronte madida di un sudor freddo non sa che mi ammazzo se mi fa fare questa figura io giuro presente cadavere mi ammazzo non hai pensato o gola lunga che quel vino poteva farti male non hai pensato che devi il buon esempio a tuo figlio sor padrone sor padrone mi senta io sono qui in ginocchio il berretta si inginocchiò un'altra volta e al sole due mani in atto di santo martire servirò per nulla finché campo finché non avrò pagato tre volte il mio debito ma per carità non dica nulla al mio ferruccio non mi faccia questa tremenda figura davanti a quel bravo ragazzo capisco che ti deve dispiacere che ferruccio sappia queste tue prodezze è un buon giovinotto che ha bisogno di farsi una posizione e non è certamente una raccomandazione avere il papà al cellulare oh madonna santissima non lo dica nemmeno si inghiozzo il povero berretta io potrei far del bene a questo tuo ragazzo a natale gli ho dato 60 lire e potrò dargliene di più ma non per merito tuo birbaccione sono stato così malato st'inverno e la povera anima a nominarla come viva non dava mai niente e hai voluto pagarti da mugnaio ho fatto male non dico ma per un po di vino non si ammazza mica un uomo angeli custodi basta non voglio altro se tu mi darai una prova sicura non vede che piango come un ragazzo le tue lacrime non valgono il mio vino ma se potrei darmi una prova seria con giuramento son pronto a giurare sull'anima mia allora va chiudi benne l'uscio della scala tira innanzi una sedia e ascoltami il berretta rianimato dal tono più dolce con cui parlava quell'uomo tremendo corse e girò la chiave dell'uscio accostò una sedia al camino sedette appoggiò le mani sui ginocchi e ancora tutto tremante sette a sentire il padrone con voce fredda e precisa senza distarcare gli occhi dal fuoco cominciò ora io vado di là a cercare una carta che mi interessa ma tu devi giurarmi prima che non dirai a nessuno che io sono stato qui stanotte vedi questo foglio di carta e glielo mise sotto il naso qui è scritta la denuncia del furto delle bottiglie eccetera un avvocato mi ha detto che trattandosi di un furto qualificato di un valore superiore a 100 lire con uso di chiave falsa il derreo non potrebbe cavarsela con meno di due anni di reclusione vedi barretta io posso buttare questo foglio sul fuoco lo butti in nome della benedetta madonna pregò l'altro alzando le mani no questa sarà la mia garanzia se tu ti lasci scappare una parola di quel che vedi e senti stanotte sai quel che ti spetta e intascò la carta faccia conto che io sia un uomo morto per quante domande ti possa fare don giusuela avvocato baruffa aquilino moratta la giuditta il mio lorenzo il tuo ferruccio o il mezzo avvocato tu tu non sai niente non hai visto niente 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 ripete il berretta chiudendo gli occhi e spazzando l'aria con le mani davanti a sé ci sarà della gente che ti offrirà del denaro per farti cantare ma tu sarai muto come questo sasso il signor tognino toccò tre volte col dito il marmo del caminetto come questo sasso lo giuro ma non mi faccia una brutta figura o poveri morti due anni di reclusione bene sta zitto e tiene vivo il fuoco ora vo di là il signor tognino prese uno dei lumi e girata la chiavetta nella toppa entrò nella camera della morta lasciando solo il portinaio davanti al fuoco l'ombra sconnessa di quest'uomo ranicchiato sulla sedia sbattuta dalla fiamma sul soffitto e ballonzolante alle scosse del fuoco sui marmi e sui mobili poteva dare un'idea dello stato d'animo e dell'agitazione di tutti i suoi pensieri che guizzavano senza ordine e senza contorno nel suo povero cervello egli conosceva il suo ortognino e sapeva che con quel carattere non c'era da scherzare aizzato negli interessi il vecchio signore diventava una tigre l'aveva visto sulle furie il giorno che corse la povera santina in atto di far la spia dietro l'uscio misericordia se non la pigliò colpi di piede fu merito della donna che seppe infilar l'uscio e le scale ma dovette far fagotto e andarsene col salario in mano dopo quasi 15 anni di servizio che cosa resta l'uomo aizzato nel suo interesse che cosa resta il toro quando vede rosso quando aveva scoperta questa faccenda delle 30 bottiglie e dire che egli non si era manco accorto di bernetante lo bevevano tutti quel vino lo beveva anche la giuditta e veramente la vecchia ratta non poteva portarselo via nella cassa e quando un pover uomo è malato e passa la sua vita in una tana scura e umida se cede a una tentazione dio spaventato non si dovrebbe parlare di furto qualificato e di cellulare e ora che cosa andava a fare lui nella stanza della morta l'altro rinchiuso con le spalle l'antiporto si fermò sulla soia un momento sollevò il lume cercò la sua morta la vecchia ratta giaceva supina sul letto col volto sprofondato nelle crespe della cuffia con la povera gonnella indosso da cui uscivano le gambe sottili con le mani legate sul ventre ferma fissa in quella rigidità quasi violenta che pigliano i corpi nei momenti che presentano l'ultima distruzione il signor tognino abituato a vedere la vecchia cugina raggomitolata nella sua poltrona in preda a una tremolante convulsione non pote sottrarsi a un senso di stupore rivedendola a un tratto tanto ingrandita sul suo letto di morte e suo malgrado fu tratto a riflettere qualche cosa su questa stupida commedia della vita senza però sprofondarsi troppo nella filosofia ciò che non era nella sua natura anzi sforzandosi di infuriare dentro di sé contro gli imbecilli che non avevano ben chiuso e lasciavano che la neve entrasse dalla finestra la neve fioccando nello spazio aperto aveva già coperto il pavimento presso il candeliere in cui la candela benedetta ridotta agli estremi sbrodolava da tutte le parti collocato il lume sopra uno stipo andò a chiudere in fretta i vetri e accostò con una certa furia le due imposte di legno non osservando nel venir via che una di queste respinta dal contraccolpo e dall'elasticità stessa del legno tornò a poco a poco a lasciare un vetro scoperto in modo che un curioso avrebbe potuto supponiamo il caso da una finestra del cortile spiare comodamente nella stanza evitando per un senso di rispetto di guardare in faccia la morta trasse di tasca un mazzo di piccole chiavi e cominciò ad aprire il vecchio scrigno di mogano di un bello stile napoleonico ornato di massicce borche di bronzo dorato nel quale la cugina custodiva gelosamente le gioie della sua giovinezza egli conosceva il mobile più che l'anima sua aprì fece scattare i segreti cavò fuori i diretti correndo presto con l'occhio prima ancora che arrivasse la luce della candela da un cassetto levò un grosso astuccio di cui seppe far saltare la molla afferrò con la sinistra tutto il barbaglio d'oro e di brillanti che riempiva il logoro damasco intascò tutta sta bella roba come avrebbe fatto con un moccichino mormorando mentalmente a buon conto posto il lume nel mezzo del mobile la mano continuò ad aprire e chiudere l'occhio entrava dappertutto scivolando inventariando seguito da un pensiero non meno svelto dell'occhio che infilando roba su roba sommava computava registrava tutto in un certo libro ma non era venuto per la roba stasera era venuto per la carta se veramente la vecchia aveva sottoscritta una carta come dubitava la giuditta visto e accertato che nello scrigno non c'era nulla di importante chiuse dappertutto tolse un'altra chiavetta e cominciò ad aprire i tiretti di un canterale pure di mogano del medesimo stile dello stipo nel primo tiretto trovò una sterminata quantità di calze ripiegate sciolte irrigidite dal bucato rattoppate da rattoppare entrò con le due mani in quel caos di calze smosse palpò ghermi quella che dette un tintinio la rovesciò sul marmo del mobile con un rumore squillante di gioia cento o centocinquanta vecchie doppie di genova di un belloro giallo uscirono dal pedule e si schierarono in fila irritando tognino che cercava la carta che stizzito botò tutto quel giallo nel tiretto chiuse respirando forti a denti stretti aprì l'altro tiretto che gli importava delle doppie e dei marenghi per lui era più una questione di puntiglio la carta voleva e siccome aveva in testa che una carta ci doveva essere secondo ciò che aveva riferito la giuditta così cominciava a irritarsi di non trovarla subito aprì un altro cassetto dove la padrona teneva la biancheria entrò con le due mani in questa roba con l'avidità con la nervosità di un gatto che graffia un canestro chiuso pieno di pesci anche in mezzo alle camicie e corsetti non c'erano carte aprì allora il terzo cassetto l'ultimo che depose sul pavimento quindi piegato il ginocchio mentre con la sinistra faceva chiaro con l'altra mano toccò palpò agitò sconvolse la roba giubboncini di lana cuffie di renza di tulle borsette gonnelle di varie stoffe sottovesti una quantità di vecchi guanti borsette manichette scapolari boccette d'acqua odorose mozziconi di candela benedetta tutta roba che la mano eccitata dalla passione scrollò nell'aria ributtò con rabbia per tornare di nuovo a toccare a palpare a premere non c'era uno straccio di carta a pagarlo un milione si fermò a riflettere che i preti avessero ritirata la carta per farla saltar fuori a tempo opportuno ciò era in contraddizione con quanto aveva riferito la giuditta alla quale pareva di aver visto a firmare una carta ma da quel momento nessuno aveva accostato la vecchia padrona tranne lei e il sortognino o la giuditta aveva fatto un sogno o la carta doveva essere in casa intanto il berretta con gli occhi addolorati dalle lacrime sempre fisso nel fuoco non poteva a suo dispetto non sentire il rimestare il tabussare che faceva il padrone nella stanza della morta parlando al fuoco con aria di canzonatura disse tra sé si intende ecco il galantuomo che vuol mandare me al cellulare per una dozzina di bottiglie e allungò un muso che non seppe più dispare la notte cessato quasi subito il vento ricadde nel freddo silenzio di prima unico rumore era il rimestare l'aprire chiudere che faceva quel diavolo d'uomo con nessun rispetto al cadavere accecato dalla cupidigia della roba più ladro lui cento volte in quel momento che non possa esserlo in cento anni un poveraccio di portinaio che patisce la sete ma così va il mondo o non bisogna rubare o bisogna rubare bene la discrezione e la sinità dei ladri rimesso a posto non senza qualche stento il cassetto l'altro si alzò col corpo indolenzito giro gli occhi per la stanza li fissò sul letto sul corpo della cugina che giaceva con le mani legate nella sua impetuosa immobilità sentì il freddo della notte cadere di addosso e col freddo un risentimento di indignazione che aveva bisogno di scatenarsi sopra qualcuno si mosse tornò in salotto e stette un momento in mezzo alla stanza come perduto e sconcertato nei suoi pensieri tu hai ricevuto del denaro uscì un tratto a dire con fure ragionevole correndo sopra il berretta che trasalì vedendolo comparire così livido e stravolto tu sai che c'è stato don giosuè uno di questi giorni ma ti hanno pagato a tacere giura un po che non ci fu don giosuè stasera caro sortognino rispose il berretta con la voce del fanciullo che piange lei può dire che ho ammazzato quella povera donna andiamo non farmi delle commedie soggiunse il padrone più rabbonito non sai che mia cugina abbia sottoscritta una carta gesù come posso sapere io vuoi guadagnare qualcosa subito devi aiutarmi a cercare una carta che mi preme si tratta forse di un intrigo e di un tradimento a danno della povera gente e dei parenti capisci vieni di là immagino dov'è la carta ma non posso cercarla da solo fammi chiaro alle scosse violente il berretta trascinato da quella forza che si impadronì della sua volontà dopo aver girato gli occhi trassognati barcollando come un ubriaco mosse i piedi prese il lume dalla mano del padrone andò dietro a quel demonio incarnato che lo tirava per la camicia che gli parlava quasi senza voce col fiato con gli occhi si fermò sull'uscio mentre gli orecchi fischiavano come il vapore una volta ancora si sentì tirato innanzi spalancò gli occhi per vedere fuori e scorse il padrone in ginocchio nella stretta del letto che cacciava la mano tra i materassi dando certe scosse alla donna chiuse gli occhi era era un'infamia un sacrilegio per la roba ma non mettere i poveri morti no gesù non si può non si deve in coscienza benedetta o signore o signore sospirò stillando ad una ad una le sillabe con un brivido di raccapriccio l'altro gli rispose con un soffio di noia nel cacciare le mani sotto il materasso aveva sentito qualche cosa di nascosto bisognava mandar via il portinaio che scrollando la candela con scosse di paralitico buttava sego dappertutto e pareva sul punto di cadere in terra sfasciato non c'è nulla tanto meglio così avevo sospettato un tiro ad ogni modo non dire a nessuno che sono venuto a cercare va a prendere dell'aria berretta e in quanto la denuncia sia per non detto ma guarda che io so tutto che a me non la si fa va a dormire adesso resto io fino a domani ho piacere che non ci sia nulla ma avevo motivo di dubitare su su non ne ha ammazzato nessuno per bacco non dirò nulla della faccenda delle bottiglie al tuo ferruccio ma segreto per segreto va bene e se mai vedessi che il mio lorenzo ripiglia a passare di qui metto sulla tua coscienza l'obbligo di avvertirmene beh ora non conosci nemmeno l'uscio il sortognino rise un poco freddamente mentre apriva l'uscio di scala e spingeva fuori con una certa furia amorosa il più spaventato degli uomini gli mise nelle mani il candeliere chiuse l'antiporto con la chiave e venne di nuovo a sedersi al caminetto aprendo le mani al fuoco coi tratti del volto induriti e contraffatti a un amaro sogghigno fisso a una cosa sola che nella rigidezza della mente non sapeva esprimere che con una sola parola con penosa irritante monotonia la carta la carta la carta questa non poteva essere che là tra un materasso e l'altro rimasto a tu per tu con la morta non avendo ora da fare che con lei con lei sola si accorse che anche i morti hanno della forza in certi casi ne hanno forse più dei vivi un vivo lo puoi battere e ammazzare ma un morto no questo nella la sua rassegnata impassibilità ti si stende davanti e ti sfida forse siamo noi che gli diamo la forza e che lo armiamo delle nostre paure o è lui che ci disarma laddove la natura è più forte nell'orgoglio non era filosofo abbastanza per risolvere e neanche per proporsi delle questioni di questo genere ma se le sentiva addosso sotto la forma di un malessere che non si sa da dove viene ma che tiene il corpo in brividi si pentì d'aver mandato via il berretta che con le smorfie irritava gli spiriti e rendeva almeno grottesca la paura palpando nei materassi gli era capitato di sentire sotto la mano il grosso e il liscio di una certa borsa di seta che la povera carolina era solita portare sul braccio e recare tutte le sere in letto con dentro insieme al manuale di filotea le più care gelose memorie in mezzo ai gomitoli e alla calza gliel'aveva vista sul braccio fino agli ultimi momenti e là dentro senza dubbio bisognava cercare il documento se giuditta non aveva visto male la curiosità non ammetteva indugio e titubanze saltò in piedi di scatto prese di nuovo il lume traversò la stanza pose il ginocchio in terra ficcò la mano sotto dove aveva sentito prima il grosso tirò il corpo oscillò sul suo duro giaciglio e mentre tognino si alzava con la candela in una mano la preda nell'altra l'ombra grande della cuffia che il lume prima proiettava sul soffitto svolazzò abbassandosi sulla parete si sciolse e lasciò vedere un enorme profilo umano un fantasma che balzò al capo dell'uomo e la viluppò come l'ombra di un uccellaccio fu un colpo di pietra al cuore ma subito il vivo riprese vantaggio alzò il lume sprofondò l'ombra sfigurata si volse dall'altra parte buttò la borsa sul cassettone ne sciolse i cordoni la sventrò di tutte le anticaie che conteneva e vide uscire santini corone occhiali gomitoli e finalmente una carta ancora fresca piegata in quattro che tognino germì svolse portò sotto la fiamma era una scrittura grossa sconnessa traballante che cominciava precisamente nel nome della santissima trinità e sotto dove corse l'occhio saltando il testo uno scrabbocchio di firma il solito carolina ratta che visto da lontano dava l'idea di uno scorpione schiacciato con la sua bella data fresca vicina tutto in perfettissima regola e lo scritto forse copiato da un modello diceva provò a leggere qualche cosa di quelle 50 righe ma alle prime parole gli occhi si fiecero pieni di sangue le lettere balzarono fuori dalla carta un gruppo di bisce lo morsero alla gola mentre due piccole lacrime di veleno uscivano a irritare le pupille con un secondo sforzo afferò il senso e il primo atto fu di voltarsi verso la morta e la guardò con occhi cattivi come se la provocasse che parole gli venissero alla bocca non si può dire perché più che parole erano frantumi di immagini e di sensi impastati tutti insieme sotto il peso di una collera terribile finì col sorridere e ciò lo sollevò quando tognin maccagno tornò il solito tognin maccagno ripiegò lentamente la carta in quattro se la cacciò in tasca accanto alla denuncia che doveva mandare il berretta al cellulare raccolse con calma fin con precisione i gomitoli gli occhiali i santini ne riempì di nuovo il ventre della borsa tirò i cordoni l'attaccò alla maniglia dell'uscio e uscì mormorando in fondo dell'anima una frase scomposta e indecisa qualche cosa che mirava ad augurare la buonasera e tornò nel salotto svelti i pretoccoli fu la prima espressione che dal guazzabuio di tante sensazioni uscì con una formula logica buttò un'altra fascinetta sulla brace e nel crepitio allegro della fiamma colorita rallegrò riscaldò gli spiriti dissipò le ombre e il ribrezzo svelti i pretonsoli torno a dire mentalmente corrugando nella piccola fronte un fascio di rughe e dunque un uomo furbo come lui aveva lavorato tre anni a salvare la sostanza ratta dalle mani degli intriganti un uomo abile come lui aveva ristaurato una ricchezza che dilagava come un vino prezioso da una vecchia botte fessa per tre anni egli aveva supportato le più strambe fantasie di una vecchia bisbetica diviso con lei sui pranzi di magro e due soldi delle eterne partite a tarocco si era fatto odiare e maledire per venire a questo bel costrutto che un pezzo di carta richiamando in vigore il testamento del 78 la dava vinta l'avvocato baruffa e lasciava il sorto nil maccagno con tanto di naso oltre il danno si vide davanti la bocca larga di don giosue pianelli e a quest'idea della canzonatura lo spirito selvatico si arruffò ma il più dannato era il pensiero di dover rendere dei conti a questa gente di dover forse restituire ciò che non si poteva più restituire carta per carta valevano di più quelle che da sei mesi egli aveva consegnate al notaio baltresca la fiamma dopo aver avviluppato il grosso della fascinetta scoppiò in una vampa rossastra che vibrò e ruggì nella piccola gola riempiendo il salotto di vita e di calore ammaliando con le sue lingue serpentine il vecchio affarista che data un'occhiata intorno cacciò la mano nella tasca di sotto le due carte uscirono insieme confrontò alla luce del fuoco ne scelse una e obbedendo a uno scatto nervoso vide il bianco nel fuoco prima che avesse deliberato di buttarvela le fiamme mordeva nel cartoccio destando nell'uomo quasi un senso di meraviglia il cuore d'acciaio picchiò cinque o sei colpi la bocca si storse a un soghigno senza gioia le mani si aprirono irrigidite e si aggrapparono alle due gambe anteriori della sedia come se cercassero un appoggio la carta ripiegata in quattro resistette più che poté alle lame taglienti si accartocciò sugli angoli mostrò nella brace purpurea i graffi della scrittura ma la santissima trinità non poté impedire che una sostanza di quasi 400 mila lire scritta in quel foglio diventasse per chi l'aveva scritta un pizzico di carbone tonino maccagno rimase a contemplare indurito in un senso di stupore quel pugnetto di carta nera che si ostinava a star compatta in bocca al fuoco mostrando i segni rossastri della scrittura era un acre piacere che lo inchiodava a contemplare gli avanzi di un tradimento tradimento di chi non andò a cercare prese le molle e con un colpo violento sfondò sparpagliò confuse scombuiando nella cenere nel fuoco la carta che mandò molte piccole anime nere su per la canna a a a a a a Grazie a tutti.